Io credo che sia un dibattito molto surreale, nel senso che io vorrei capire che cosa, perché si attacca il codice degli appalti, dimenticando che il codice degli appalti non è una scelta del nostro paese, ma è un'oppressione obbligata perché ci sono le direttive comunitarie da rispettare. Capiremo di che cosa si tratta sotto il profilo delle semplificazioni. La parola semplificazione è diventata una sorta di mantra, dietro c'è tutto, il contrario di tutto. Io sono assolutamente favorevole alla semplificazione, ma come si potrebbe non essere? Il problema è capire che cosa si intende poi concretamente per semplificazioni e lo verificheremo. Sicuramente nel codice c'è una serie di spazi corretti su cui intervenire per consentire di fare più velocemente le cose. Sarei un po' più preoccupato se alcuni di quei temi che in questi giorni sono stati sollevati come possibili, per esempio la possibilità di ampliare ancora di più lo spazio dell'affidamento diretto, diciamo, dovessero verificarsi perché quelli rischiano di essere fenomeni criminogene. Io penso che quello sia un meccanismo molto pericoloso perché è un meccanismo che rischia di non aiutare gli amministratori onesti che invece le regole le vogliono a loro tutela e rischiano invece di facilitare il compito ai soggetti disonesti. Questi meccanismi di deregulation li abbiamo visti tante volte in azione nell'esperienza del nostro paese e non hanno dato risultati particolarmente positivi. Quindi io sotto questo profilo mi auguro che non sia questa la strada dello sblocca cantiere. Semplificazioni sì, assolutamente sì, ovviamente parola che però significa tutto e niente. Deregulation, soprattutto se qualcuno parla davvero di fare una regola fino ad un milione significherebbe di fatto consentire di fare quasi tutto senza appalti. Io credo che sia una cosa molto pericolosa per un paese che ha i problemi che noi abbiamo sul piano della corruzione, sul piano delle infiltrazioni e della criminalità organizzata ma soprattutto, ripeto, non credo che sia una cosa che poi alla fine sbloccherà davvero i cantieri. Io ho fatto domanda per provare a rientrare prima in magistratura, cosa che terrei molto. Ovviamente se no il 28 aprile 2020 non è lontano. Comunque quando finirà tornerò in magistratura, lo vedremo poi dopo.